Un incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 6.50 in Viale Fiume a Pesaro. Un pedone è stato investito mentre attraversava la strada. Secondo le prime indagini, il conducente dell'autovettura, un 56N di San Giovanni in Marignano, a bordo di un Alfa Romeo, stava percorrendo la SS16 diretto da Rimini verso Fano, quando una volta arrivato in Via Fiume, nel tratto compreso tra Via Venezia e Via dei Partigiani, dove è presente un attraversamento pedonale, l'uomo ha investito un pedone, un 56N di Pesaro, che stava attraversando la strada e che per l'urto ricevuto è stato proiettato a circa 15 metri di distanza dall'attraversamento pedonale. Sul posto, oltre alla polizia locale, sono intervenuti i sanitari del 118 e successivamente è stato attivato l'elisoccorso per il trasporto al Torrette di Ancona. La prognosi del pedone è riservata.